C'era un castello fortificato tra San Martino e Castellanza, dove si svolse la seconda fase della battaglia di Legnano, i resti del fortilizio dello scantinato di un edificio e nel parco di una villa in via Dandolo, la ricostruzione topografica della battaglia del 1176, il carroccio e il campo base e tracce del castello fortificato e gli ultimi ritrovamenti nel 1994. Al tempo della battaglia del 1176, di cui si gloria Legnano, sul suo territorio vi era solo un modesto borgo i cui capisaldi, abitati da villici, dediti all'agricoltura e alla pastorizia, erano le primitive cascine, alcune esistenti ancora ai nostri tempi e nel gergo della sagra del carroccio sono diventate poi delle contrade. Tra queste cascine la più periferica, al confine del territorio di Bustarsizio, borgo, che faceva parte del contadio del Seprio, era quella denominata Mazzafame. La costruzione originaria non è certo l'attuale, ma attraverso delle trasformazioni, rifacimenti su più antiche vestigia, si è pervenuti all'edificio che dovrebbe risalire al 700 e al rustico annesso. La cascina Mazzafame, come vedremo, ha un fondamentale nesso storico con la battaglia di Legnano. Testimonianze inoppugnabili stabilirono infatti che la prima fase della battaglia, iniziata nell'ora terza, cioè alle nove del mattino, e terminata alle tre pomeridiane del 29 maggio 1176, ebbe come teatro le campagne comprese tra Mazzafame e Borsano. La vittoriosa fase successiva, avvenuta nel primo pomeriggio secondo la ricostruzione topografica, che si ricava sempre da documenti, pervenuti fino a noi, ebbe come terreno d'azione il territorio di San Martino, altro borgo importante, non solo per questo contesto, ma anche perché vi furono localizzati i primi insediamenti abitativi fin dall'epoca pre-romana e romana. La ricostruzione topografica della battaglia del 1176 Nella ricostruzione della battaglia di Legnano, ai fini dei luoghi e dei tempi in cui si svolse, coincidono i testi rappresentati dalla cronica del milanese Sire Raul, e nella continuatio degli annales coloniensis attribuita al cronista tedesco Ottone di San Biagio, che si rifà alle annotazioni di Ottone di Fresinga, vescovo tedesco, il quale faceva parte dei consiglieri e personaggi della corte imperiale, e che, forse, accompagnò Federico col suo esercito nel 1176 nella sua calata decisiva. Infine, concordano anche un documento attribuito a Goffredo da Viterbo, capillano dell'imperatore, sempre a suo fianco, che si può dedurre fosse stato quindi un testimone oculare a Legnano. Nonché la descrizione che fa della battaglia il milanese Sire Raul. Secondo i codici e le suddette annotazioni, risulta che all'alba del fatidico 29 maggio e l'esercito milanese, che affrontò Barbarossa, si trovava a 15 miglia da Milano, in luogo adatto tra Barranum Brixium e Busti Arsitium, affermazione del cardinale Bosone. Facendo i calcoli, era esattamente a 26,775 chilometri, una distanza corrisponde alla perferia di Legnano, verso confine con Bust Arsizio, cioè Cascina-Mazzafame. Si tenga conto che la strada carraia di comunicazione tra Milano e Seprio non coincideva con l'attuale tracciato del Sempione, ma si manteneva sulla destra dell'Ulona, passando per Legnano, San Giorgio, Cannegrate, Parabiago, Pogliano e Rò. Forse fu dovuta ai copisti, ai quali quei luoghi erano ignoti. Le evidenti estorpiature dei nomi suddetti, che potrebbero invece essere Barranum, cioè Legnanum, e Brixianum, Borsano, quello di Bust Arsizio. La localizzazione coincide con la notazione di Sire Raul che precisa «Inter Borsanum». L'imperatore Federico, in questa sua calata che si rivelerà per lui disastrosa, pur ignorando la consistenza e l'ubicazione dell'esercito lombardo, intuiva che il territorio di Legnano poteva rappresentare per lui un pericolo. Stava quindi cercando di evitarlo ed era sua intenzione proseguire dalla Valle Olona, esattamente da Cairate, dove era accampato alla vigilia della battaglia di Legnano, verso Pavia, seguendo una direzione che aveva come punti di riferimento Oggiate, Cascina Bon Gesù, Sacco Nago, Turbigo, Tornavento, per varcare il Ticino. All'alba del 29 maggio 1176, un trappello di cavalieri lombardi che avrebbero dovuto soltanto fare da ricognitori, spingendosi alle periferie di Legnano, decisero invece improvvisamente di attaccare le avanguardie dell'esercito di Federico I, sottovalutando nella potenza la consistenza numerica. Il grosso della cavalleria tedesca che seguiva spuntò infatti fuori dei boschi, subito dopo, scatenandosi addosso ai lombardi che, così incalzati, dovettero ripiegare rapidamente verso il carroccio, che era localizzato nell'abitato del borgo di Legnano. Una parte dei cavalieri lombardi proseguì la rotta fino alle porte di Milano, dove incontrò le altre truppe della Lega, già in marcia di avvicinamento verso Legnano. riferirono l'accaduto e rinforzati i ranghi, con queste forze fresche tornarono indietro per riprendere la mischia. A difendere il carroccio, in questo frattempo, restano solo i pedites e i milites, che aggussano l'ingegno e formano una falange di tre schiere concentriche, unendo cioè gli scudi, tra i quali e sopra gli stessi protendono le aste. È pensabile che ai fanti si fossero uniti anche popolani armati di bastoni, forconi, rudimentali roncole ed altre attrezze agricoli. Questa tenace forza di resistenza dà modo ai rinforzi di arrivare, nelle prime ore del pomeriggio, a Legnano, sopprendere ai fianchi gli assedianti tedeschi e sconfiggerli, costringerli ad una scomposta fuga verso il Ticino. Il carroccio è il campo base. A questo punto resta da localizzare dove fosse ubicato il carroccio. Il campo base dei Lombardi è di conseguenza dove esattamente si fosse combattuta questa seconda fase vittoriosa della nostra famosa battaglia. Legnano era la porta d'ingresso del territorio milanese ed è logico pensare che da tempo disponesse di opere fortificate all'imbocco della Vallelona, che apparteneva al contadio del Seprio, fedele della Barbarossa. Il nuovo campo di battaglia doveva quindi essere spostato in una località situata verso l'Olona, protetta dallo stesso fiume e da un avvallamento nel terreno o addirittura da mura fortificate di un castello, di cui poi parleremo oltre. Intanto cerchiamo di dare in proposito una interpretazione logica alle annotazioni dei colonisti imperiali, negli annales colonienses maximi, che affermano «At Longobardi, aut vincere aut mori, parati grandi fossa, sum exercitum, circunderunt et nemo, cum bello urgeretur, effigere posset» e tradotto sarebbe «i Lombardi, pronti a vincere o a morire, collocarono il loro esercito vicino a un grande fossato, in modo che, quando la battaglia più perversarsi, nessuno potesse fuggire. È assurdo pensare che i Lombardi, minacciati dalla cavalleria, si fossero affrettati a scavare una trincea attorno al carroccio. Il fosso, di cui parlano i colonisti tedeschi, in senso figurato sta piuttosto per scarpata o fortificazione, come annotò in vari suoi scritti anche Augusto Marinoni. La topografia del territorio, del luogo, della prima fase dello scontro, che è zona Cascina Massafame, come si era detto, al tempo in cui, nella fluttuazione del campo di battaglia, si combatte la seconda fase, è tale da farla localizzare in una zona della fascia compresa tra lo sbocco della via Olona, cioè tra le attuali via Dandolo, che è una strada anticamente dominata il confinante, San Martino, e la discesa della via Vittoria, in direzione del ponte sull'Olona. Si noti che questa era la via sterrata di collegamento con Borsano, passando dalla Cascina Massafame. L'antica strada carrabile percorre avvantrato lungo la sponda a destra del fiume Olona, l'attuale tracciato di Corso Garibaldi e via per Castellanza, e del fiume stesso in località Gabinella, da dove si dipartiva la strada per Saronno e Como, tracce del castello fortificato. A questo punto ci soccorre una testimonianza di Guido Suttermeister, della scritta in legnano romana Scavi e ritrovamenti antichi, il quale afferma che nel 1900, tra via Dandolo e via 29 maggio, un capomastro, mentre procedeva allo scavo per costruire una casa, fece affiorare un muro di metri 1,0,5 di spessore, tanto solidamente costruito con calce idraulica e breciame, anche di mattoni, da dover rinunciare alla sua distruzione, accettando il disagio della sua presenza perenne in cantina. Da esame topografico, prosegue Suttermeister, si può supporre che il muro in oggetto fosse una forte cinta antica di legnano, o un castello, che poteva esistere ed estendersi sino al ciglio del rapido dirupo che costeggiava la valle Olona. Come posizione di osservazione e dominante gli arrivi della stessa valle, era certamente ideale per un castello medievale. Nel lato di mezzodì di tale muro e a distanza di due metri, si trovavano durante gli stessi scavi per la cantina varie anfore vinarie interrate nella sabbia, che dovevano evidentemente far parte del supposto castello. Anche nel giardino della vicina Villa Baita, che è all'angolo tra via Dandolo e via 29 Maggio, esistono avanzi di mura, quasi a fior di terra, e a duecento metri verso Ponente si ritrovò anche uno spadone di epoca barbarica, conclude Suttermeister. Ricollegandosi fra loro, elevano a dignità della storia di questo borgo, che oggi è mutato. Abbiamo localizzato la casa con i resti delle mura dell'antico castello, a cui si riferisce Suttermeister, al numero civico 5 di via Dandolo, ed è proprietà di Idelma Tommasini, che ci ha permesso di rilevare questo scantinato il muro stesso. Raccontandosi anche che suo nonno, nel tentativo di proseguire gli scavi lungo queste mura, aveva avuto la conferma dell'esistenza di un cunicolo sotterraneo che conduceva con ogni probabilità all'antico ponte sull'Olona, in località Gabinella, dove esiste, e l'abbiamo fotografata, una vecchia torre di guardia di foggia mediovale. Il ponte poteva anche essere controllato dall'altura, dove sorgeva la sua fortificazione in questione. Questo fortilizio forse era addirittura di epoca romana, come dice che, oltre a Suttermeister, ipotizza anche Bertolone, in Lombardia romana, Milano 1939. Afferma Guido Suttermeister in una memoria della società arte e storia, proprio a commento di questo censimento steso dal prevosto Giambattista Specio, e dice che il sistema topografico antico delle strade, in vicinanza di un corso d'acqua disseminato da mulini, come lo era l'Olona, è costituito da tante parallele che corrono verso l'ubicazione dei mulini stessi. Tra queste strade si trovano collegamenti trasversali e in vicinanza di avallamenti via diagonale di arroccamento. La via San Martino è una di queste, comprese tra la linea della cascina bellingera che conduce alla gabinella e la già nominata vecchia strada per Borsano. Tutti questi documenti, dai codici e dalle testimonianze sulla battaglia del 29 maggio 1176 di Fonte Papale, imperiale e comunale, ben 40 raccolti col testo originale e relativa trascrizione nel volume Legnano e la battaglia, autori Rangiorgio Dilario ed Egidio Giannazza e Augusto Marinoni, si è potuto maggiormente definire la ricostruzione storica e topografica della battaglia stessa, con le due fasi, la prima tra Borsano e l'antica cascina Mazzafame, oggi sede della contrada alla Flora, la seconda decisiva e vittoriosa nel territorio di San Martino. Gli ultimi ritrovamenti del 1994. Questa zona è al centro di importanti ritrovamenti archeologici, quali sepolture di epoca preromana e romana, ma anche di reperti in grado di testimoniare che su questo territorio, rialzato, come si è detto, rispetto al corso dell'olona, vi erano i primi sediamenti abitativi e le attività lavorativi e artigianali di quelle popolazioni. Nel maggio del 1994, vicino al luogo dove sono state localizzate tracce dell'antico fortilizio dell'epoca della battaglia, erano state anche rinvenute durante gli scavi per la costruzione di un condominio di via Dandolo, angolo via 29 maggio, le mura di una casa, i resti di una vasca per la lavorazione della ceramica e un focolare per la cottura di manufatti. Il tutto risalente al secondo secolo avanti Cristo. Questi resti sono stati conservati e sono tuttora visibili in loco. Sul lato opposto di via Dandolo, nel punto in cui Suttermeister aveva localizzato la villa Baita, oggi c'è un condominio. Nel primo novecento era stata costruita un'altra villa, ancora oggi esistente all'inizio di questa via, e i due primi proprietari, l'industriale metalmeccanico Livio Lampugnani e il sarto lignanese Gianni Celeghin, ci hanno confermato che nel giardino antistante alla villa, proprio a confine con l'ex proprietà Baita, era affiorato un robusto muro di un metro e mezzo di spessore, che gli stessi proprietari avevano ricoperto mediante riporti di terreno, e così è pervenuta dall'attuale proprietario. Sull'ipotesi di un castello, al confine tra Legnano e Castellanza, ai riscontri testimoniali di fine ottocento, raccolti da Suttermeister e dal Bertolone, si sono dunque aggiunte ora anche queste nuove concrete prove, circa l'esistenza dei resti di mura di fortificazione, o di un castrum, forse più antico, esistente comunque all'epoca della famosa battaglia. L'avvenimento che riempie d'orgoglio i Lombardi e il legnanesi in particolare. Grazie a tutti! Grazie a tutti!